E' un nuovo video dedicato all'evento che si è tenuto sabato scorso a Bologna presso la CIC Computer Un evento targato Corsair e Asus all'insegna del Liquid Cooling Infatti tutti i presenti, coloro i fortunati insomma che sono venuti Hanno potuto assistere all'assemblaggio di un PC dall'inizio alla fine con un impianto a liquido Con la costruzione quindi dell'impianto a liquido E devo dire che il risultato come vedrete alla fine di queste clip Perché poi finita questa intro vi lascerò un po' di clip con la musica sotto Che raccontano tutto l'assemblaggio dall'inizio alla fine Insomma il risultato ragazzi non è stato niente male E' venuto fuori un PC alquanto tamaro Quindi se siete appassionati di questo mondo qua Beh seguite il video dall'inizio alla fine Approfitto per ringraziare Twister E' lui che ci ha dato lezioni veramente dall'inizio alla fine Devo dire che ho preso appunti anche io perché tante cose non le sapevo Insomma ci ha spiegato come si assembla un PC E soprattutto come si costruisce un impianto a liquido A regola d'arte e devo dire ragazzi è veramente una figata Quindi lo ringrazio Lascio anche la sua pagina Facebook in descrizione TwisterMod Se volete fargli un sacco di domande contattatelo direttamente lì E quindi niente ragazzi Becchiamo la prossima Se veramente si va lasciato un like Bella Adesso invece utilizzeremo una delle Vengeance LPX È DDR4 Corsair In questo caso è un kit con frequenza 3000 MHz DPC sotto integrata dell'XSPC Quindi non abbiamo problemi di avere poppa staccata dalle vaschette E quindi non abbiamo problemi di avere poppa staccata dalle vaschette E quindi non abbiamo problemi di avere poppa staccata dalle varie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti